Euro Regione News Per agosto a Lignano tra un evento e l'altro con le frecce tricolori fuochi d'artificio e concerti a Lignano in piazza Fontana c'è un'esposizione imperdibile. In galleria Auri Fontana espongono Piero De Martín le sue opere in materiali pregiati come oro, argento, platino e pietre dure. Luca Pressacco con la sua interpretazione preziosa delle scarpe da donna gioiello e Francesco Borzani con i quadri su tela ma anche su cartoncino e materici l'assessore alla cultura della città di Lignano Ada Iuri ci parla della mostra Abbiamo così una chiara opinione una chiara versione dell'animo di questi tre artisti Piero De Martín, Luca Pressacco e Francesco Borzani dalla galleria Auri Fontana piazza Fontana di Lignano Sapiodoro. Voglio ringraziarti a nome di Francesco Borzani, di Luca Pressacco a nome mio e anche della galleria chiaramente Auri Fontana per i tuoi bellissimi e preziosi percorsi artistici che curi in terrazza mare questo ne va a vantaggio del territorio lignanese dell'amministrazione perché tu sei comunque l'anima dell'arte qui a Lignano oltre ad essere assessore alla cultura di Lignano Sapiodoro da Lignano Sapiodoro per Euro Regione News Marco Mascioli i nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu 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 www.euroregionenews.eu